Tra tutte le richieste strane che mi si potevano fare, quella che mi ha sorpreso di più è stata la richiesta di fare un video approfondimento sul nano Bombur, quel nano grasso che c'è all'interno del Lobbit, il quale tutti i Tolkieniani, me compreso, sono affezionati perché l'hanno conosciuto leggendo il romanzo Lobbit e hanno potuto ridere di lui e con lui, perché diciamo la verità, il nano Bombur è un po' il comic relief della situazione ed è stato utilizzato in questo senso sia da Tolkien sia da Peter Jackson. C'è da dire però che un approfondimento sul nano Bombur è una cosa veramente difficile, non avrei mai pensato che in realtà si potessero trarre anche delle linee guida su questo personaggio che all'inizio noi vediamo capitare a casa di Bilbo insieme a tutti gli altri nani e farsi strada in cucina per mangiare a più non posso ed è lui a chiedere di mangiare pasticcio di maiale e insalata. Poi al termine del banchetto i nani tirano fuori i loro strumenti e il nano Bombur si accomoda ai tamburi. Piccolo particolare, nel romanzo di Tolkien Bombur parla, è dotato di parola, mentre nel film di Peter Jackson è un personaggio caratterizzato solo fisicamente. Lo vediamo bello, grasso, goloso ma assolutamente sprovvisto di parola, non lo fanno mai parlare. Se non nel terzo capitolo della trilogia della Hobbit quando dice una frase durante la battaglia finale. Per Dorin! Hai perso l'ascia! No, ce l'ha ancora! Ecco a te, cugina! Sai dove puoi ficcartela! Il film però non evita di mostrare anche l'animo più eroico e guerriero di Bombur. Infatti questo personaggio che passa il tempo a mangiare, in realtà poi all'interno della desolazione di Smaug lo vediamo protagonista dell'eccezionale scena del barile che dal fiume arriva a riva con dentro Bombur che esce e comincia a menare fendenti e ad ammazzare orchi. Nel libro lo vediamo combattere subito furiosamente contro i troll nella prima avventura che i nani si trovano ad affrontare nelle terre selvaggi. Ed è Bombur a notare che non è stata una grande idea quella di Bilbo di pensare di poter mettere in pratica le sue doti di scassinatore proprio contro i troll. Anzi, gli dice, è stato insulso scegliere un momento così per esercitarsi, rubare e borseggiare quando ciò che volevamo era un fuoco e del cibo. Insomma, la ricerca di cibo e la necessità di riempirsi la pancia è qualcosa di molto più importante di dar prova di bravura come scassinatori. Lo troviamo protagonista del simpatico siparietto, anche qui comic relief della vicenda, quando si ritrova Bilbo sulle spalle. Infatti Bilbo esclama «Perché? Perché mai ho lasciato il mio buco Hobbit?» disse il povero signor Baggins sobbalzando su e giù sulla schiena di Bombur. «Perché? Perché mai ho deciso di portare un povero piccolo Hobbit in una caccia al tesoro?» disse il povero Bombur che era grasso e procedeva barcollando col sudore che gli colava sul naso per il caldo e il terrore. Eh sì, perché Bombur viene chiamato spesso dal narratore e anche da Bilbo il povero vecchio Bombur, il povero grasso Bombur e il vecchio e grasso Bombur. Insomma, sono sempre queste sue caratteristiche a venire tirati in ballo. Davanti a Beorn viene fatto presentare da Gandalf da solo perché è talmente grosso che occupa il posto di due nani e per giunta arriva dentro la casa in fretta e furia da solo col fiatone e arrabbiato per essere stato lasciato indietro. Abosco Tetro, o Bosco Atro, a dir che si voglia, è protagonista della caduta nelle acque incantate del torrente, del rivo d'acqua che attraversa il bosco e da cui Beorn ha messo in guardia i nani. Non devono in alcun modo entrare in contatto con le acque di questo rivo. Però Bombur ci casca dentro e avviene in occasione del famoso tentativo di attraversamento del rivo quando Bilbo scorge una barca dall'altra riva e cercano tutti di raggiungerla. Però poi arrivano anche dei cervi, i nani cominciano a lanciare frecce per colpire i cervi. Insomma, succede un caos e Bombur, che ha una delle corde per attraccare la barca, finisce direttamente dentro le acque di questo rivo. E così facendo cade in uno stato di catatonia che lo porta a dormire profondamente e costringe gli altri nani a faticosissimi turni di gruppi di quattro che lo trascinino durante il loro attraversamento di Bosco Tetro. Mentre, come dice il testo, Bombur continuava a dormire con un sorriso beato sulla faccia grassa come se non si curasse più di tutti i guai che li travagliavano. A un certo punto Bombur si sveglia, preda di un'amnesia, si rimette in sesto però è piuttosto infastidito che gli altri lo abbiano svegliato ed esclama avrei fatto meglio a non svegliarmi, stavo facendo un sogno così bello sognavo di camminare in una foresta abbastanza simile a questa ma illuminata da torce sugli alberi, da lampade che pendevano dai rami e da fuochi che ardevano sul terreno e c'era una grande festa che continuava all'infinito c'era un re dei boschi con una corona di foglie e tutti cantavano allegramente e non potrei elencare né descrivere le cose che c'erano da mangiare e da bere si rimette in piedi ma le gambe non lo reggono e allora si risiede dicendo di voler continuare a dormire e a sognare di mangiare quello che ha sognato fino a questo momento si rifiuta di andare avanti di un solo passo e dice agli altri andate avanti se proprio dovete io non voglio far altro che starmene sdraiato qui dormire e sognare è roba da mangiare se non posso tenerle in nessun altro modo spero di non svegliarmi mai più fa parte sicuramente di un incantesimo di bosco tetro che agisce su Bombur e gli fa vedere quello che lui vuole vedere cioè mangiare che è la sua principale occupazione e lo fiacca nell'animo lo porta in qualche modo a entrare nel reame del sonno anche se effettivamente quello che vede Bombur all'interno del bosco è la verità perché progressivamente i nani si imbattono in questi banchetti sognati da Bombur sono i banchetti del popolo degli elfi silvani ai quali i nani non sono stati invitati e ogni volta che i nani cercano di piombare sulla scena per partecipare a questi banchetti i banchetti scompaiono lasciando i nani nella più completa oscurità ma i nani curiosamente sono incalzati a cercare questi banchetti non solo perché spinti dalla fame ma perché incalzati e sobillati dagli stessi racconti di Bombur che ogni volta racconta sempre più particolari relativi alle pietanze che c'erano nel suo sogno poi nell'episodio dei ragni Bombur è purtroppo il più colpito dai ragni e dai loro pizzicotti in quanto è il più corpulento c'è più materia da colpire poi giunti a Erebor sulla montagna solitaria Bombur si rifiuta di andare avanti si rifiuta di fare la strada a piedi e di usare le corde per scalare la montagna lui preferisce restare al campo a fare la guardia e a dormire di fatto Bombur è entrato in una dimensione onirica il testo dice che Bombur riusciva ad addormentarsi in qualsiasi momento e dopo l'avventura nella foresta cercava sempre di riacchiappare i magnifici sogni che aveva fatto allora ovviamente l'idilio dura poco perché poi è costretto a fuggire in fretta e furia per scampare all'ira del drago Smaug e per inciso Bombur dormiva anche quando hanno aperto il suo barile dopo la fuga dalle prigioni del re degli elfi silvani Bilbo gli si affeziona molto al punto che quando va a consegnare l'archengemma dal re degli elfi da Bard e trova anche Gandalf quando gli offrono di rimanere come persona stimata e considerata da tutti anche presso gli elfi e Bilbo rifiuta dicendo che deve tornare perché ha dato la sua parola ma soprattutto perché deve svegliare il suo amico Bombur e ha promesso di svegliarlo a mezzanotte per fargli dare il cambio della guardia intanto l'ha lasciato dormire e qui vediamo che Bilbo da una parte è leale e vuole tornare ad aiutare quelli che a tutti gli effetti ormai sono suoi amici però dall'altra parte è anche un furbastro perché ha utilizzato proprio il turno di guardia di Bombur per farlo dormire e per approfittare a sgraffignare l'archengemma a portarla via dalla montagna e a portarla al campo degli invasori di Erebor e comunque ancora una volta alla fine durante la battaglia dei cinque eserciti o delle cinque armate a dire che si voglia Bombur si distingue comunque come un eroico e valente nano quindi le sue due caratteristiche sono quella di essere un nano estremamente ghiotto dedito al mangiare preoccupato a riempirsi la pancia ma allo stesso tempo anche per essere un nano estremamente eroico e battagliero che ha un legame particolare con il mondo del sogno comunque non solo quello legato alla veglia e al dormire che è un tema molto importante che è stato analizzato nel libro A Question of Time da Werling Flieger Tolkien nelle sue opere ha molto riflettuto sul tema della veglia, del sonno, del sogno delle situazioni oniriche soprattutto nel Signore degli Anelli ecco, Bomb potrebbe essere benissimo un personaggio che anticipa tutta questa riflessione per questo suo essere un personaggio liminare tra i due mondi